Completata dall'ASL la lunga e complessa procedura istruttoria per i sanitari Novax. A breve scattano le prime sospensioni dal servizio in Irpinia. Si tratta di una decina tra medici e operatori sanitari finiti nel mirino dell'azienda sanitaria locale per non essersi immunizzati. Nel frattempo in questi mesi molti sono tornati sulle loro posizioni e hanno deciso di sottoporsi al siero. Nelle ultime 24 ore vaccini ai livelli minimi appena 351 e sono cinque i nuovi positivi su 217 tamponi. Oggi è stato il primo giorno tra i banchi al liceo scientifico Mancini di Via De Concilis. Green pass e controlli con il termoscanner questa mattina per il rientro in presenza degli alunni del biennio. Oggi è toccato ai primi studenti 16 prime classi 360 alunni in tutto. Soddisfatta la preside Paola Anna Gianfelice. Abbiamo iniziato oggi proprio per dare tempo ai ragazzi delle classi prime di conoscersi e di conoscere la scuola ma soprattutto di prendere confidenza con le indicazioni, le misure di contenimento per il covid, quindi gli accessi differenziati, il termoscanner e quindi tutti quei comportamenti che erano necessari e che dovranno essere assimilati. Domani entreranno oltre le prime anche le seconde per le quali ci saranno sempre attività di accoglienza perché lo scorso anno la classe prima in effetti è stata una classe che un po' ha perso più degli altri la socialità. Anche per il controllo dei green pass tutto è filato liscio. Questa mattina da remoto avevo il 151 persone contrattualizzate di inservizio di cui ho potuto verificare la validità del green pass. Abbiamo dovuto poi invece controllare di persone in presenza i pochi che venivano stamattina a prendere servizio per la prima volta.